Musica Lunedì 2 ottobre, buongiorno Friuli e bentrovati in questo inizio di settimana per la nostra consueta rassegna stampa per la nostra diretta del mattino che inizia dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Vediamo innanzitutto questa bella immagine che ci arriva da una delle webcam che è puntata sul territorio della nostra regione, qui siamo a grado e vediamo le immagini della laguna sullo sfondo del campanile della Basilica in primo piano, adesso a grado ci sono 14 gradi, a Udine invece il termometro è un po' più basso, 8 gradi e mezzo a Udine, 11 gradi e 3 a Pordenone, 15 gradi a Trieste e salendo in montagna vediamo 4 gradi e 3 sul monte Zoncolan, 3 gradi e mezzo sul monte Lussari, il cielo è sereno quasi in tutta la regione e dopo questa bella immagine andiamo anche a vederci le previsioni per la giornata di oggi, vediamo cosa ci attende per questo lunedì. Previsioni di lunedì 2 ottobre, dal mattino cielo in prevalenza sereno, verso sera aumento della nuvolosità a partire da ovest, sulla costa soffierà borino di primo mattino, poi brezza, le temperature in pianura le minime varieranno dai 9 agli 11 gradi, le massime dai 19 ai 22, sulla costa le minime andranno dai 13 ai 16 gradi, le massime dai 19 ai 22. Queste le previsioni per oggi, poi nel corso della nostra diretta attorno alle 8 e 5 ci collegheremo anche con i previsori dell'Osmer Arpa per avere le previsioni nel dettaglio per oggi e anche per domani. Ma adesso andiamo a vedere come di consueto anche com'è la situazione viabilità, in particolare sull'autostrada A4, ecco il sito infotraffico di Autovie Venete che ci segnala un incidente sulla A4, ma tra Campania e Peschiera, quindi in Veneto, in Friuli, Venezia Giulia al momento non ci sono eventi particolari da segnalare, quindi traffico nella norma. Dopo il meteo e la viabilità, ora è il momento di andare sui quotidiani di oggi e cominciare la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Eccoli, li vediamo a schermo intero, vediamo le prime pagine dei principali quotidiani che oggi aprono in buona parte con il referendum per l'indipendenza della Catalogna. Ecco il Corriere della Sera, leggiamo il titolo di apertura, violenza in Catalogna, voto nel caos. Scontri e barricate ai seggi, centinaia di feriti, sparati proiettili di gomma, la polizia locale si ribella. Il governo di Barcellona, come ai tempi di Franco, il premier Rajoy parla di una sede sceneggiata, noi tolleranti ma fermi. Queste le due posizioni di chi chiedeva appunto l'indipendenza della Catalogna, il governo di Barcellona e invece la posizione del primo ministro Rajoy. Più di 800 feriti, scontri ai seggi tra la guardia civile chi voleva votare. È stata una giornata all'insegna del caos in tutta la Catalogna per il referendum sull'indipendenza. Sono stati sparati anche proiettili di gomma sui cittadini catalani accorsi alle urne. Ma i Mossos, la polizia locale catalana, si è ribellata agli ordini di Madrid e non sono intervenuti contro i cittadini. Il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha parlato di sceneggiata e sottolineato che i catalani sono stati ingannati e chiamati a partecipare a una mobilitazione illegale. Per il governo di Barcellona è come essere tornati ai tempi del franchismo. Anche la partita di calcio tra Barcellona e la Spalmas, in dubbio fino all'ultimo, si è giocata a porte chiuse. Domani sciopero in tutta la Catalogna. E poi vediamo anche i commenti di spalla. Abbiamo il commento di Aldo Cazzullo che parla di una domenica nera dell'Europa e i fanatismi del re, scrive Cazzullo. E ancora andando a leggere i titoli degli altri articoli vediamo le parole di due scrittori. Luise Sepulveda che parla di una costituzione da rifare, così la Spagna si salva. E poi Clara Sanchez, l'odio che riaffiora per colpa dei politici. Tra poco torneremo su questa notizia con le prime pagine degli altri quotidiani. Adesso però andiamo a leggere anche gli altri titoli sulla prima del Corriere della Sera. attacco a Marsiglia, due ragazze uccise. Le ha accoltellate invocando Allah. Questo è il racconto di un giovane testimone che ha assistito a questo attacco a Marsiglia, nella stazione di Marsiglia. L'Isis ha rivendicato l'attentato. Andiamo adesso sulle altre prime pagine. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Anche in questo caso il titolo di apertura è dedicato al referendum per l'indipendenza della Catalogna. La polizia contro i votanti. Sia l'indipendenza, questo il risultato del referendum, Madrid, parla di una consultazione illegale. Gli agenti irrompono nei seggi, oltre 840 feriti. A Barcellona domani sciopero generale intervenga l'Unione Europea. E c'è l'analisi di Andrea Bonanni sulla prima di Repubblica che dice hanno perso tutti, inclusa l'Europa. E poi vediamo anche a centro pagina questa fotonotizia che ci mostra una stretta di mano fra Papa Francesco e un emigrante, Francesco con il braccialetto dei rifugiati, l'abbraccio del Papa al profugo in difesa del diritto alla speranza. Ecco ancora il titolo. Proseguiamo la nostra carrellata sulle prime dei quotidiani nazionali. Andiamo a vedere anche la stampa che titola in apertura l'urlo di Barcellona, addio Spagna. La polizia di Madrid irrompe nei seggi e usa proiettili di gomma sugli elettori. 800 feriti. E vediamo ancora una foto che la stampa mette in primo piano questo intervento della polizia spagnola fuori dai seggi di Barcellona. I sì al referendum sarebbero il 90%, il leader della Catalogna a cui Gemonte dice mercoledì in Parlamento la legge per l'indipendenza. Ecco ancora il titolo di apertura della stampa. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Libero che titola così. I catalani massacrati vogliono la libertà. Per fortuna che l'Europa è democratica. La Spagna schiera le forze dell'ordine per impedire la consultazione sull'indipendenza. Scene da terzo mondo e violenza inaudita contro i cittadini inermi. Oltre 700 feriti. E poi il Libero mette a centro pagina anche il referendum che si terrà il 22 ottobre in Veneto ma anche in Lombardia per chiedere più autonomia per queste due regioni. Il referendum Veneto benedetto anche dalla Corte Costituzionale, sottolinea il governatore del Veneto Zaia. Ma adesso andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano che titola così. Da oggi ci sono due Spagne. La polizia spara quasi 800 feriti ma più di 3 milioni alle urne. Ecco il titolo. Scontri e centinaia di feriti nel giorno del voto per l'indipendenza catalana. Andiamo anche sulla prima pagina del giornale che invece decide di aprire con una notizia diversa con gli scontri che ci sono stati. Al G7 di Torino delinquenti a 5 stelle. I grillini gettano la maschera. Stanno con i No Global che hanno picchiato gli agenti e messo in scena la decapitazione di Renzi. E poi vediamo anche sul giornale. A centro pagina la Catalogna sceglie la secessione ma è guerra civile. Scrive il giornale. Più di 800 feriti. Vince il sì Madrid. Referendum non valido. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Sole 24 ore. Vediamo il titolo di apertura del Sole di oggi. Conti e depositi all'estero diventano trasparenti. Operativa la prima fase dello scambio automatico di informazioni per le verifiche. Alle entrate il dettaglio delle posizioni da 48 paesi. Al traguardo la prima fase dello scambio automatico di informazioni sui conti e depositi detenuti dagli italiani in una cinquantina di paesi internazionali. Saranno usati dal fisco per innescare ulteriori verifiche. E vediamo i paesi che hanno previsto lo scambio automatico di informazioni. Andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport. Un flash anche su un quotidiano sportivo in questa prima parte di Rassegna. Ecco il titolo. Napoli va. Juve var. Al San Paolo il Napoli vince 3 a 0 sul Cagliari. A Bergamo da 0 a 2 a 2 a 2 tra Atalanta e Juventus. Azzurri quindi primi da soli che Atalanta scrive la Gazzetta. Allegri stop con polemiche. Poi torneremo sulle notizie sportive di oggi nel corso della seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Adesso andiamo a puntare la nostra attenzione sui quotidiani locali. Subito il messaggero Veneto di Udine. Andiamo a vedere a centro pagina. Poi andremo sul titolo principale, il titolo di apertura, ma dicevamo andiamo a vedere a centro pagina la notizia della scomparsa del poeta Pierluigi Cappello. Il Friuli perde il suo poeta più amato, scrive il messaggero Veneto. Ecco ancora una foto di Cappello che è scomparso nella giornata di ieri. Questa è la prima pagina e poi all'interno abbiamo due pagine con tanti articoli che ricordano la figura di Pierluigi Cappello, le sue poesie, i suoi libri, la sua impronta come una carezza sull'esilità umana. Scrive, titola ancora il messaggero che poi affida ad Alberto Garlini. L'articolo principale è Garlini che racconta quell'incontro negli anni 90 tra letture e sigarette. Intorno a lui si creò un gruppo che cambiò il volto della poesia. E poi ancora andiamo a leggere anche questo articolo di Spalla. Dato tanto ora ci lascia le sue parole. Il dolore degli amici a poche ore dalla scomparsa la compagna dice ci ha insegnato a vivere e a morire. Ecco ancora il titolo. E poi voltando pagina altri articoli. È stato il poeta che ha ridato un'anima al Friuli. Pasolini profetizzò, arriverà uno come lui da oggi vive nei versi che parlano di libertà. E poi ancora nella pagina accanto quella casa a Cassacco nella strada di Novella, la dimora di Pierluigi nella via intitolata alla Cantarutti. Ecco ancora la doppia pagina con i commenti e le parole di tanti esponenti del mondo della cultura ma anche della politica. Noi torniamo in prima pagina adesso andiamo a vedere anche le altre notizie. Vediamo a centropagina i genitori di Nadia ha ucciso anche noi. Si ritorna quindi sull'omicidio di Nadia Orlando due mesi fa al delitto i genitori dicono Francesco era come un figlio ce l'ha portata via. E anche in questo caso andiamo nelle pagine interne e vediamo appunto le parole dei genitori della ragazza assassinata dal fidanzato. Da due mesi la loro vita è stravolta dalla disperazione. Con nostra figlia ha spento anche tutta la famiglia. E dicono ancora se fosse stata una malattia ce ne saremmo fatti una ragione. Invece lui ha ammazzato tutti noi. l'avevamo accolto come un figlio. Queste le parole e vediamo poi anche altri due articoli con le parole degli amici della vittima davanti alla chiesa del paese. Siamo qui per urlare questa ingiustizia deve ritornare in carcere. Dicono e poi ancora la zia ha scritto una lettera all'omicida. noi nel dolore tu dormi tra lenzuola profumata e caro Francesco ora pentiti. E poi vediamo appunto anche questa immagine che ricorda Nadia. Questo cuore rosso con i sassi e le scarpe rosse. Torniamo in prima pagina. Andiamo a leggere anche le altre notizie. Vediamo nel taglio alto due richiami ai fatti internazionali con gli scontri che ci sono stati in Catalogna durante il referendum. Catalogna la polizia fa irruzione nei seggi centinaia di feriti e poi a Marsiglia invoca Allah e massacra due ragazze. Ma torniamo adesso alla cronaca locale. Vediamo questi richiami di spalla. Polizia locale sosta nei posti riservati ai disabili più di mille multe. E poi andremo anche nelle pagine interne e andremo ad approfondire questa notizia. Protesi all'anca difettose. 600 mila euro di risarcimenti. E a San Daniele evade dai domiciliari e picchia un ragazzo. Poi nel taglio basso una guida di otto pagine sulle pensioni. Ecco cosa c'è da sapere. E poi invece per quanto riguarda lo sport dopo la Samp l'Udinese festeggia ma l'infermeria è piena. Andiamo adesso nelle pagine interne del Messaggero Veneto e vediamo appunto il titolo di apertura del fascicolo locale. Sosta nelle aree per disabili oltre mille multe. In tre anni 1374 sanzioni della polizia locale. Contravvenzioni in calo ma la guardia è alta scrive il Messaggero Veneto. Andiamo ancora a sfogliare le pagine di questo quotidiano e vediamo questo fatto di cronaca. Folle corsa nella notte, fugge all'alta 180 chilometri orari e si schianta. Denunciato un romeno di 20 anni, ubriaco, ha forzato un posto di blocco a Basaldella. Poi è finito contro una ringhiera. E ancora sempre per quanto riguarda la cronaca. Vediamo anche quest'altra notizia. Evade dai domiciliari e picchia una minore. A San Daniele un pregiudicato ha ferito con un tirapugno una quindicenne e rubato un cellulare a una tredicenne. Ora è in carcere. Dal Messaggero Veneto di Udine andiamo adesso sulle prime pagine del Messaggero Veneto di Pordenone e andiamo a vedere qualche altra notizia in primo piano. Qui siamo sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone. Via l'archivio notarile, anche quello va a Udine. Il presidente dell'ordine Simoncini dice inevitabile ci sono problemi di organico. SOS per il tribunale fallimentare, disegno di legge, prefigura nuovi accorpamenti. Questa è la prima pagina del fascicolo di Pordenone del Messaggero Veneto ma c'è un'altra notizia importante che ci arriva dal Pordenonese un tentato omicidio a Sacile. Ecco il titolo dell'articolo, anzi a Budoia. Accoltella la sua ex e l'amico dopo la festa. Samuele Re, ventenne di Caneva, è in carcere. Grave è la studentessa di 19 anni colpita con tre fendenti. Si cerca l'arma. Ecco ancora il titolo. Accoltella l'ex fidanzata e ferisce l'amico dopo una festa di compleanno nell'ex albergo a Quattro Stelle e Chiasa de Gaia a Budoia. Cerca poi di scappare a piedi, pure lui sanguinante, lungo il vialetto di Ghiaia, ombreggiato dagli alberi dopo aver gettato via il coltello, ma viene bloccato dai carabinieri chiamati dalle vittime dell'aggressione. Samuele D'Aret di Caneva ha soltanto vent'anni e si ritrova ora a dover rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Arrestato dai carabinieri della stazione di Polcenigo e del Norma di Sacile è in carcere a Pordenone. Ecco ancora la doppia pagina con questo fatto di cronaca in primo piano. Andiamo sul gazzettino adesso, il gazzettino di Pordenone. Vediamo la prima pagina che con il titolo ci riporta a parlare del referendum in Catalogna. Ecco il titolo, la Catalogna ora l'indipendenza. Vediamo anche la fotonotizia, pugno duro di Madrid sui catalani con questa immagine dell'intervento della polizia spagnola. Andiamo a vedere la prima pagina del fascicolo di Pordenone. Vediamo in apertura proprio il fatto di cronaca di cui parlavamo prima. Coltellate di gelosia all'ex fidanzata, ventenne di caneva, si vendica a una festa di compleanno. Colpiti due diciannovenni di Fontana Fredda e Pordenone. Lei è grave. Fuga bloccata dai carabinieri, arrestato per tentato omicidio alla vittima, diceva te la faccio pagare. Poi gli sms minacciosi. Ecco ancora il titolo di apertura. Andiamo a riprendere la prima pagina del gazzettino di Pordenone che mette a centro pagina la notizia della scomparsa di Cappello. Ecco il titolo. Morto Cappello, il Friuli perde la sua voce. Mondo della cultura in lutto. È morto all'alba di ieri. Aveva 50 anni ed era uno dei massimi poeti italiani contemporanei. Fu il primo a battersi per far avere a Federico Tavani i benefici della legge Bacchelli. Andando a vedere anche le altre notizie vediamo anche quest'altra notizia di cronaca. Aggrediti due agenti, un arresto in stazione a Pordenone. Si scaglia senza motivo contro la polfer che aveva appena fermato un immigrato. Un pordenonese di 42 anni, Carlo Rorai, è stato arrestato sabato sera per resistenza e violenza pubblico ufficiale. L'uomo si è scagliato contro gli agenti che stavano accompagnando in ufficio un nigeriano che aveva creato trambusto nel bar della stazione dopo essere sfuggito a un controllo a borda del treno proveniente da Udine. Due poliziotti colpiti con calci e pugni sono rimasti feriti. E poi vediamo nel taglio basso della prima pagina le notizie sportive. Per quanto riguarda il Pordenone si parla della settimana di fuoco del Pordenone. Tre partite in una settimana. Attendono il Pordenone che ha perso momentaneamente il primato in Serie C per la vittoria delle Renate sulla Triestina. Questa sera giocherà in trasferta contro il Feralpi Salò. L'undici Neroverdi, giovedì invece ospiterà al Bottecchia Il Gubbio per tornare fuori casa a Ravenna domenica. In casa Udinese ritorna il sorriso fra troppi infortuni, scrive il Gazzettino. Chiudiamo adesso anche questo quotidiano e andiamo sul piccolo. Andiamo a vedere la prima pagina del piccolo di Trieste. Si parla della Barcolana. Inizia la settimana clou di questo evento. Barcolana già oltre i mille iscritti. Record a sette giorni dalla regata. Inizia la settimana clou, una miriade di eventi. E vediamo anche una foto a centro pagina, che è una foto che ci mostra la Barcolana nuota, 200 iscritti all'evento di ieri. E poi vediamo di spalla, si parla ancora dell'accoglienza degli emigranti, i sindaci Anci si ribellano al prefetto e dicono non accetteremo in posizioni per quanto riguarda l'accoglienza diffusa. Altolà dei comuni, per voce dell'Anci Friuli Venezia Giulia, al piano per l'accoglienza diffusa dei profughi che lasceranno il cara di Gradisca anticipato sul piccolo dal commissario di governo del Friuli Venezia Giulia, Anna Paola Porzio. Non accetteremo in posizioni, dicono i sindaci, esulta soltanto Gorizia per l'addio alla commissione che valuta gli asili. E questa notizia la troviamo approfondita nelle prime due pagine del quotidiano. La rivolta dei sindaci contro il piano Porzio sull'accoglienza diffusa. Altolà del Lanci, alle proposte per distribuire i 500 ospiti del cara, non accetteremo in posizioni, no a ulteriori sacrifici. Torrenti sottolinea la saggezza della linea del prefetto mentre Fedriga e Ciriani parlano di gestione folle e irresponsabile. Ecco ancora la doppia pagina dedicata a questo tema. ci sono anche le parole del sindaco di Dolegna che dice nel mio paese non voglio profughi. Il primo cittadino di Dolegna chiude le porte prima la nostra gente. Queste le parole del sindaco di Dolegna. Chiudiamo il piccolo di Trieste e andiamo a vedere la prima pagina del piccolo di Gorizia. Ecco il titolo. Di apertura si parla dell'ex ospedale civile di Gorizia. L'agonia del vecchio civile in vendita per 24 milioni. Questo è il valore delle strutture sanitarie dismesse. Nessuna traccia del piano per ospitare l'Università Europea. Porte sbarrate e intonaci. Scrostati. 24 milioni di euro e il valore del patrimonio attualmente inutilizzato dell'azienda sanitaria bassa friulana Isontina. A recitare la parte del Leone il vecchio ospedale civile di via Vittorio Veneto. Un gigante inutilizzato e in sofferenza. Affiaccato dalle intemperie e dal passare degli anni. A fornire la cifra a Giovanni Pilati da oggi ufficialmente non più direttore generale sostituito da Antonio Poggiana. Il guaio è che all'orizzonte non si vedono potenziali acquirenti per l'edificio a Croce di Lorena e anche il progetto di ospitare lì l'Università Europea idea rilanciata in tempi molto recenti dal sindaco Rodolfo Ziberna appare al momento più una suggestione che un progetto reale, solido e pronto a decollare. E vediamo queste foto dell'ospedale dell'ex ospedale civile di Gorezia. Andiamo adesso anche sulla prima pagina del piccolo di Monfalcone vediamo assieme le notizie in primo piano funzioni di polizia per il neocomandante in ballo quattro candidati niente incarichi amministrativi la vice solidoro nella squadra antidegrado un valser di personale al servizio finanziario un ufficiale di polizia locale spogliato dagli incarichi amministrativi alla municipale di Monfalcone arriverà un comandante chiamato ad esercitare una funzione sostanzialmente operativa una figura per la quale si abbasseranno i costi a carico dell'ente locale rispetto alla precedente dirigenza ricoperta da Walter Milocchi già trasferitosi a Trieste lo stipendio sarà dimezzato infatti cambiata la contrattualizzazione l'inquadramento è nella categoria PLC queste le novità che riguardano il nuovo comandante della polizia locale di Monfalcone ed ecco l'articolo appunto che apre la pagina del piccolo di Monfalcone con la quale chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa tra poco ci fermeremo per un attimo di pubblicità quindi la linea passerà ai colleghi dello sport per il consueto approfondimento sportivo del lunedì prima però andiamo a vedere con l'aiuto della regia il box che ci riassume i principali appuntamenti di oggi su Udinese TV ecco vediamo come ogni lunedì l'appuntamento di questa sera alle 21 in diretta con il nostro Tonight con Udinese Tonight conduce Giorgia Bortolossi con la partecipazione di Maurizio Ferrari Alice Mattelloni ovviamente tanti ospiti questa è la nostra prima serata come ogni giorno poi alle 19 vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG con tutti gli ultimi aggiornamenti di cronaca e di sport adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi il via come sempre alla nostra rassegna stampa sportiva e al nostro approfondimento che oggi ci porterà come ogni lunedì nell'edicola di Cussignacco rimanete con noi grazie a tutti